Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Spertone, benvenuti. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di uno smartphone, un senior smartphone Android, quindi un telefono dedicato alle persone di una certa età, alle persone che cercano ancora dei tasti fisici nel loro smartphone Android e tutte quelle persone che, passatemi il termine, non gliene frega niente della moda o dell'idea, gli basta solo uno smartphone per chiamare e per avere WhatsApp, però vogliono anche i tasti fisici perché magari hanno le mani sporche o perché magari vogliono usare comunque uno smartphone con i tasti fisici. Quindi va bene per molte persone. Bene, questa è la novità di Brondi, che è questo qua, si chiama Brondi Amico Smartphone S Plus e Amico sta per tutti gli smartphone che hanno il tasto SOS e tutti gli smartphone o cellulari che hanno la possibilità appunto di essere controllati da remoto. Come vedete qua, controllo da remoto. E per questo ho fatto un video di come funziona controllo da remoto. Cosa significa? Che io ho il mio genitore, la mia persona cara, qualsiasi sia il mio amico, ha sbagliato a mettere la suoneria, vuole mettere un numero in rubrica ma non sa farlo, io da remoto posso mandarti dentro un numero in rubrica. Una cosa che ha solo Brondi al momento ed è molto molto valida. Bene, andiamo a vedere il nostro cellulare. Prima di tutto vediamo le caratteristiche, un piccolo riassunto. Abbiamo uno smartphone 4G, quindi compatibile con tutti i gestori. L'USB-C, quindi non abbiamo neanche più il problema di dirgli devi inserire la spina in questo modo o non nell'altro perché l'USB-C è irreversibile. Abbiamo appunto il tasto SOS che adesso andiamo a vedere, il controllo da remoto che vi dicevo prima, la fotocamera principale e frontale da 5 megapixel, messaggi, social network, Android 12, dual sim, qui si ripete chiamate di soccorso e anche la torcia. Bene, come dicevamo è un 4G, ha un processore da 1,3 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria. Sono pochi, sì, per chi è abituato con gli smartphone di oggi sono pochi, ma dobbiamo guardare l'utilizzo di questo smartphone che bastano 16 GB e comunque la memoria espandibile. Bene, andiamo a vedere, a fare un piccolo unboxing del nostro smartphone, eccoci qua. Allora, qui abbiamo il benvenuto di Brondi, qui è sempre grazie di aver scelto Brondi, qui abbiamo il nostro bel smartphone, ecco qua, vedete, facile, veloce e sicuro. Questi sono tastoni fisici, rosso per mettere giù, verde per rispondere e il tasto home per tornare alla nostra home. Bene, adesso qui possiamo tornare indietro di un po' di anni, ma abbiamo ancora la possibilità di togliere la batteria. Con la cover, torniamo qui, vedete, SIM 1, SIM 2 e microSD che possiamo aggiungere. Poi, dentro la confezione cosa troviamo? Troviamo un laccetto, cosa che non mette più nessuno, un laccetto per appenderlo al collo, per portarcelo in giro, sempre molto valido, con sgancio veloce, benissimo. Abbiamo l'alimentatore, che è un USB normale, poi abbiamo il nostro cavo USB-C, che è questo. Abbiamo gli auricolari, signori, abbiamo ancora gli auricolari, molto molto brava, avrombi, e abbiamo una super batteria, che è enorme, eccoci qua, questa batteria qua, che è da 2.800 mAh. Per tenere acceso un display da 5 pollici e 7 va benissimo, anche perché il processore consuma poco, perché non è molto veloce. Benissimo, andiamo a inserire dentro la nostra bella batteria, così, mettiamo la cover, eccoci qua, togliamo la pellicola della pubblicità e accendiamo il nostro smartphone. Volevo farvi vedere che all'interno, appunto, c'è quello che vi dicevo prima del controller remoto. Ecco qua. Comunque, in caso, andate a vedere il video che ho fatto per quanto riguarda il controller remoto, vedete? Io tramite cellulare o tramite smartphone posso mandargli un messaggio. Come vedete qua, posso andare a aggiungere un numero dell'SOS, perché il tasto SOS può chiamare fino a 5 numeri consecutivamente. Posso andare a cambiare i tasti M1 e M2, ma qua non ci sono, e posso fare altre funzioni. Comunque è dentro qui, su questo libretto qua, verdino. Poi abbiamo le istruzioni per l'uso, eccolo qua, e siamo posti. Bene, si accende il nostro bel brondi, vedete che bel display? 5 pollici e 7, molto molto grande, il primo brondi che vedo con questo display grande con Android. Sblocco lo schermo, ok, telefono, Whatsapp, bei tastoni belli grandi, icone che comunque posso spostare come un qualsiasi Android. Qui abbiamo contatti, fotocamera, Play Store, Google, tutte le funzioni di Google, diciamo, quindi abbiamo Gmail, Google Maps, eccetera, l'assistente, la galleria delle foto. Qui abbiamo file e tutto quello che serve, vedete? Tutte icone molto grandi. Abbiamo già il metodo installato, abbiamo l'assistenza di brondi, abbiamo Radio Italia. Controllo da remoto, questo è quello che vi dicevo. Continuo a dire questo controllo da remoto perché secondo me è una cosa importantissima, che nessuno ci lo fa pesare, ma è importante perché, cioè, pensiamo a quante persone non sanno usare il loro smartphone. Voi, con il vostro codice, anche a distanza di 500 km, mandate un messaggino e impostate lo smartphone della vostra mamma, papà, nonno, zia, chi sia. Bene, qua poi ci sono gli aggiornamenti. La tendina, come un normale Android, eccolo qui, Wi-Fi, vedete anche questo è semplificato. Spegnimento, impostazioni. Tiro sulla tendina e qua ci sono le notifiche, come tutti gli smartphone. Bene, poi abbiamo qui laterale, tasto accensione, questo che è la torcia, spengo e accendo. Quindi non devo cercare pulsanti o combinazioni di tasti, qui tiro giù e ho la mia torcia. Ho il jack per le cuffie, per gli auricolari che abbiamo visto già in dotazione. Abbiamo il bilanziare del volume più e meno. E qui il famoso tasto SOS. Questo tasto qua, come funziona? E anche qui ho fatto un video sui vari brondi che abbiamo usato. Premo il tasto SOS, metto 5 numeri, mi chiama il primo numero, non rispondo. Bene, chiama il secondo numero. Il secondo numero non risponde, chiama il terzo. Non risponde il terzo e avanti così fino al quinto. Stessa cosa, ma anche dei messaggi. Ho bisogno di aiuto, oppure potete impostarlo voi, quale sia il messaggio. Qui abbiamo il nostro altoparlantino. Qui sotto, quello che vi dicevo prima, è l'USB-C. Qui ho chiuso male, adesso ho chiuso bene. USB-C. Oppure esiste la possibilità di acquistare una base di ricarica aggiuntiva, che potete mettere il vostro smartphone appoggiato e ricaricarlo, senza mai inserire dentro l'USB-C, in modo che non vada rotto. Livo là, appoggio e lui si mette in carica. Secondo me, un bel display, bello grande, molto grande, anche bei tasti ben divisi. Finalmente un bel display luminoso, perché gli altri sono un po' spenti. Peccato un po' per la memoria, ma vabbè, la memoria aggiuntiva, come vi dicevo, per l'uso che dobbiamo fare di questo smartphone, più che sufficiente. Bene. Adesso andiamo a vedere un attimo. Il menu impostazioni. E' proprio identico a quello che abbiamo nel nostro telefono Android. Ecco, stavo notando una cosa. Spazio di archiviazione. Allora, ieri ho fatto una recensione di un TCL con 256 GB di memoria. E aveva già 32 GB occupati dal sistema operativo. Vedete che qui è molto più leggero, perché lo spazio utilizzato è 4,8 GB con le app già preinstallate. Dall'altra parte avevo 32 GB di memoria occupati. Sì, su 256. Però vedete che è tutto proporzionato. Eeeh, vabbè. Una piccola notazione così, giusto per dire. Bene, signori. Io penso di avervelo presentato e di avervi fatto vedere come va la fotocamera. La fotocamera 5 megapixel, giusto per fare una fotoricordo o cose del genere, non è una super fotocamera con zoom ottico, eccetera, eccetera. Questo è uno smartphone pensato per le persone, è un senior smartphone, quindi per le persone anziane. O per tutte quelle persone che io penso, non so, il meccanico, la persona, il distributore che ha i guanti su e non può toccare il touch. Tutte quelle persone che vogliono un telefono con i tasti fisici, perché trovate i miei altri smartphone con i tasti fisici, ce ne sono veramente pochi. 4G, che abbia la possibilità della doppia sim e quello che serve. Dobbiamo sempre valutare in base all'esigenza del cliente che abbiamo davanti. Bene, io vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Sapete che Brondi avete due anni di garanzia, tenete sempre le scatole, il scontrino e non scrivete sopra le scatole e viene sostituito direttamente il prodotto, non viene riparato. Al 99% se c'è qualcosa che non va, viene sostituito. E poi, che dire? Basta, penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Ecco, qui ho bisogno di un favore di voi che guarderete la recensione. Magari scrivetemi se volete sapere qualche impostazione da fare. Allora io andrò a fare un video dedicato, visto che lo smartphone me lo lasciano e posso fare alcune prove. Magari se vedo anche qualcos'altro da impostare, io farò altri video. Ma se avete bisogno, scrivetemi pure nei commenti, in caso cercherò di fare dei video di approfondimento. Bene, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Per cortesia, iscrivetevi al canale, io la recensione la faccio gratuitamente e più iscritti ho e meglio è per me. E poi vi posso portare altri video. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.